Bello a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono Favij Ed oggi siamo tornati su Paranormal Dopo tipo mesi che non lo facevo, non vedevo l'ora di riprovarci La cosa che mi ha sorpreso di più Appena ho acceso il gioco proprio E che manca il menu Dove cazzo è finito il menu? Perfetto ragazzi ci siamo dopo Cosa, buongiorno? Gigio ma che be- ma da quant'è che non ti vedo zio? Allora ragazzi questo è Gigio per chi non lo conoscesse, è il mio amico Allora in poche parole vi spiego Sto gioco dovrebbe essere una roba dove- l'avevo già fatto Solo che l'hanno aggiornato quindi non so nulla di quello che hanno messo Vabbè ragazzi non ho capito bene cosa è successo Comunque- no, 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 no Ho già fatto una cosa sbagliata Perfetto, allora io continuo al buio perché sono pazzo in fondo Quindi volevo- che bella sta stato tra- L'urido bastardo di me- lo sapevo, lo sapevo Ci avrei scommesso l'urido- Madonna quanto sei sexy Una statua che ha appena tentato di uccidermi Cosa molto normale- cosa c'è la roba rossa? Che non capisco cos'è Non vedo ca- fucking Giusto! Vediamogli scoprire che diamo l'hanno aggiunto perché Voglio vedere che hanno combinato ragazzi ma prima cosa è il caffè Questo non deve mai mancare perché è prima il caffè Poi tutto il resto perché se no non è possibile Eh... cos'è? La spesa? E' comprato del latte, una pietra e una banana Giusto? Your camera will die soon Ah, ah per far- ah no è la pizza coordinata Tranquilato? Due e quattro formaggi, grazie Senza cipolla Che cazzo dice raga? Ho fatto due passi Stan simando Dio santo c'hai la resistenza di topo gigio Gigio! Che cazzo ci fai lì? Io lo sapevo che era lui Allora tu devi smetterla di chiudere le porte Di metterti davanti alle porte Perché questa è casa mia! Mi fai uno scherzo della madonna Mica giuro che ti prendo muore Ti fico nel fuoco che ci sta ingarando Io t'ho avvertito Sia i barili che quello strozzo di merda Si sono messi d'accordo Io sono convinto Comunque li ho lì sopra Prima che succeda di tutto Quindi Ah c'è ancora una telecamera qui Allora lasciamo perdere Perché mi si sta scaricando la... La videocamera Devo andare a dormire per ricaricare la batteria Quindi vado a dormire E vedo che mi succede domani anche... Prese? Tu sei lì per non c'è il tuo camera Ok perfetto Ah ti fa vedere le riprese Bellissimo! Magari il cane si ingroppa una sedia Mentre... Oh io l'ho pagata la bolletta della luce Non rompete i coglioni Non so perché si muove il lampadario Ma non lo voglio sapere Ragazzi ma sta cosa delle telecamere Che puoi vedere di notte è terrificante Non voglio nemmeno guardare Che cazzo su... Che cazzo è successo? Cos'è? Dove sia? Fermi Ok Calmi Perché c'è una scala attaccata al muro Gigi che cazzo hai fatto? Gigi? È inutile che tenti di guardarmi Con quello sguardo sexy Perché non ci cado zio Titanic lo fai con tua sorella Fuori dalla mia camera Gigi cosa stai facendo? Potevo ria andare a dormire? Ah era un sogno Ma vaffanculo E io che pensavo chissà cosa Era un sogno e basta Cioè io sono... Buongiorno! C'è un tizio bello Fuori dalla mia finestra Salve Cioè non lo so Io questo qua mi spia di notte Madonna È un maniaco Non lo so raga Ma me ne vado di qua Prima che succedano robe E... Siamo in bagno Perfetto Fammi lavar la faccia Perché di prima mattina non si può T'ho visto! T'ho visto! T'ho visto! A parte lo specchio posseduto È il tizio che mi spia di notte Vediamo di uscire Prima che... Prima che compaglia qualcuno di brutto Perché non lo so Perché c'è Gigi attaccato a una croce? No vabbè raga Lasciamo per... Mi stai prendendo per il culo Vediamo che cazzo è successo Al lampadario che prima si è mosso Non si sa perché Cioè perché si è mosso il lampadario prima? Non l'ho capita sta cosa Raga? Gigi...Gigi hai fatto il tè? Perfetto Molto gentile Grazie Ne vuoi un po'? No? Ok Ma lo bevo io Bevo io! Bevo io! Bevo io! Bevo io! Da solo Bevo da solo Come un... Quel mona che sbatte le porte Non ho capito che sbatte la porta Ma non importa No era pessimo Ah un si si Perfetto La casa è cattiva Mi fa piacere Però non... Gigi lo è di più Ma non importa Avanti! C'è un tasto vicino alla porta C'è un tasto vicino al pomello Si chiama campanello Tu lo premi E eviti di rompere i coglioni Lasciamo perdere tutto il resto E... Porca puttana Gigi smettila! Mi si sta esaurendo la batteria Devo tornare su Merda Devo andare a dormire Veloce Veloce Maledizia Ma perché dura così poco la batteria? Cazzo Perché guardi Gigio? Io non me sto toccando Raga fa lui Che cazzo succede? Volo! Sono su... Non lo sapevo di essere Superman Questa è una novità Bellissimo! Ok Giuro che ho avuto la stessa reazione Guardando i compiti di matematica Allora ragazzi Ricordiamoci la prossima volta Di andare a ricaricare la batteria Perché sennò finisco malissimo E... Tra l'altro piove Cioè prima non pioveva Messo il piede fuori piove Fantastico Amico mio Ci sono le scale Usale Ok Lo so che è molto difficile imparare A salire le scale Posso capirlo Però Mio Dio Provaci almeno Vediamo se in bagno stavolta c'è qualcosa di decente Spero Allora Calmo eh Calmo Ah T'ho preso T'ho visto T'ho visto T'ho visto T'ho visto Torniamo indietro Allora Perché c'è Michael Jackson sulle pare Gigio Stai giocando col contatore Evita di prendermi per il culo con le luci Perché sono cazzi tua Io te lo dico Chi o cosa ha acceso la televisione di preciso Cioè magari qualche programma decente maledizione Oh Questo è un programma Eravamo arrivati più o meno qui l'ultima volta Sono inciampato su uno sgabello Solo io riesco Allora Mamma Mamma sei tu Si apre il forno Quanta Che cazzo è successo Non pot No No Allora evitate di farmi prendere certi infarti perché Cos'era quella roba attaccata al muro prima Perché sento rumori di porte che si aprono Tra il luglio 2011 Fanta Che poi come si fa a caricare la batteria mentre dormi Ancora un mister Don't sleep Non dormi Oddio Allora se non è chiaro io dormo quando e dove cazzo mi pare Ok Perché qua non ci chiariamo se no Ok Lo sapevo cazzo Lo sapevo Regà 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 facciamoci la barba Fuori di qui subito Non ne posso Che Che Regà Regà Che cazzo è questa Regà Via Via Girati Non muove Non si muove Non si muove Non si muove Buongiorno Le faccio un tè Le faccio un tè Ok Non lo faccio il tè Perfetto Che cazzo è successo Regà Michael Michael l'hai vista Ragazzi l'ha vista anche Michael Gigio Quanti gigi ci sono Cioè già uno me ne bastava Ma non rompete il cazzo tutti quanti insieme Allora O tu stai lì O tu stai lì Non ce n'hai altra alternativa Ok Buongiorno madame Le preparo un caffè o qualcosa Non lo so Come desidera E la teiera va puttane Anche quella Ci mancava solo questa Ragazzi la batteria non dura una sega Durano di più le batterie dell'iPhone Mio dio Togliti Togliti dai coglioni Perché finisci male Te l'ho già detto Io te l'ho detto eh Io te l'ho detto A dormire A dormire Veloci Ok Ci siamo di nuovo Prima che 4 luglio Mi sono già sveglio Sono già svegliato Buongiorno Senta lei è una gran figa Questo glielo devo dire Ha delle bellissime mani Per carità Però mi lascia scendere Grazie Molto gentile Molto gentile Gentilissima Ah sono Sono morto Sono morto Giusto Ma quante volte mi è capitato Di andare a dormire E trovare dei rompicoglioni Che mi sollevano E mi ammazzano Proprio ho perso il conto Ma boh raga Io sono morto Non so come Ma non importa Comunque nel prossimo episodio Vedrò di fare The room The town Che sono ancora due cose diverse Da quella di prima Ho paura effettivamente Di scoprire che cazzo sono Però Lo vedrò nel prossimo episodio Perché Per oggi basta Paranormale Ne ho abbastanza Come al solito ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Anche la pagina di facebook E come ogni video Tratta nella descrizione Se non siete interessati Iscrivetevi E noi ci rivediamo Nel prossimo video Bella ragazzi